Sia l'ho dato Gesù Cristo. Gesù dopo la risurrezione passa, come sappiamo, 40 giorni prima di ascendere al cielo. In questi 40 giorni egli si mostra come risorto, fa comprendere cos'è la risurrezione e fa comprendere qual è il suo amore per i suoi apostoli e il compito che loro affida. Li prepara. Li prepara come risorto e dà loro il potere sacerdotale di rimettere i peccati. Poi, con l'ondono e lo Spirito Santo, tutta la pienezza del Cristo sarà non più accanto a loro come in questi 40 giorni, ma in loro. Il Paracluti infatti abita il cuore degli apostoli, dei discepoli, dei credenti. Il Cristo li guida e agisce attraverso di loro. Questi 40 giorni sono dunque un tempo di affiatamento, di familiarizzazione con questo Gesù che hanno conosciuto nella debolezza e che ora vedono in quello che invece è tutta la potenza e lo splendore di Dio che ha glorificato il suo corpo umano. Se prima lo trattavano un po' come l'uomo di Dio, ma in qualche modo pur sempre uomo che aveva bisogno di essere aiutato, compreso, o ha bisogno della loro abilità. Pensiamo quando vanno a pesco, quando attraversano il lago e lo mettono lì a poppo, come dire noi siamo i marinai esperti, aspetta lì che ti portiamo dall'altra parte. Ora invece hanno un timore reverenziale perché la manifestazione dell'onnipotenza di Dio ha cambiato questa natura umana ed essendo pure un corpo che mangia con loro può essere toccato, è comunque un corpo glorioso che passa alle pareti, è un corpo che si sposta e appare a chi vuole nel tempo e nel luogo in cui vuole, è un corpo che ascende al cielo, è il corpo della resurrezione sulla quale i discepoli vengono ammaestrati, perché questo devono predicare, che Gesù è risorto e di quale tipo di resurrezione. Non è come la resurrezione di Lazzaro che torna in vita ed è come prima, ma è un corpo glorioso non più soggetto alla passibilità e alla mortalità. Inoltre, come ha detto Gesù, li ha messa sulla sua presenza, sul suo amore, da loro il potere di sciogliere i peccati, alitando su di loro gli dicevete lo Spirito Santo, che anticipa quello che sa il dono, la pienezza dello Spirito Santo durante la Pentecoste. L'Eucaristia era stata donata prima della Passione perché stava donando il suo corpo per essere oggetto della Passione. Dunque è il Cristo crocifisso, quello dell'Eucaristia. Ma al tempo stesso, dopo questa sua morte e resurrezione, egli continua a donare i doni sacerdotali della remissione dei peccati per mezzo del suo Spirito. Con l'ammaestramento, questa specie di apprendimento in 40 giorni in uno stato diverso di Gesù, dopo di questo ci sarà il dono dello Spirito Santo che dà la pienezza e perfezione ai discepoli. Allora, se nel tempo dei 40 giorni il risorto è con loro in un certo modo, quindi compare, scompare, mangia con loro, li conferma, li istruisce, li carica di doni sacerdotali e altro, dopo la Pentecoste essi hanno già imparato quello che è la vicinanza straordinaria del Dio fatto uomo e lo ricevono nel cuore per mezzo dello Spirito, l'altro Paraclito, l'altro Consolatore. Che non è semplicemente una consolazione per una mancanza di qualcosa di più grande, ma in realtà la pienezza della presenza del Cristo, del suo Spirito, nel cuore degli uomini della sua Chiesa. Dunque, per mezzo di questo Spirito, egli compiono le opere dello Spirito di Cristo. Quando Giovanni e Pietro a Gerusalemme guariscono immediatamente uno storpio e vengono chiamati a rispondere di questo come se fosse un crimine dai sacerdoti del Tempio, essi non hanno nessuna remoraia, anzi, sanno benissimo cosa devono dire. Non noi abbiamo fatto, ma è il Cristo vivo che agisce in noi, attraverso di noi, e dunque è quel Cristo che voi avete ucciso come criminale, egli è veramente risorto, come aveva detto, come hanno detto le scritture, e opera dunque con potenza. Quindi voi avete perso. Avete perso perché non potete più fermarlo, perché egli si moltiplica nei suoi fedeli, nei suoi apostoli, nei suoi discepoli. La Chiesa è carismatica perché è riempita dello Spirito del Cristo risorto, che voi avete crocifisso, ma con questo non avete fermato la potenza di Dio. Tutt'altro l'avete moltiplicata, per mezzo dello Spirito, in ogni credente. E' così che si aggiungono, dopo quel miracolo, altre migliaia di fedeli. I sacerdoti del Tempio sono veramente preoccupati, vorrebbero imprigionare, vorrebbero eliminare, sopprimere questi testimoni del risorto, ma la folla che di giorno in giorno si moltiplica di credenti in Cristo li fa temere. Quindi cercano di prendere decisioni che possono essere prudenti per loro. La Chiesa dunque agisce per mezzo di Cristo e se anche si colpiscono i rappresentanti della Chiesa che portano lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Cristo si diffonde ovunque egli voglia. E quindi sorgeranno figli di Abramo dalle pietre, nel senso che lo Spirito Santo può suscitare credenti vivi e operanti dove come vuole. E questo è ciò che i nemici della Chiesa non hanno mai accettato. Quindi quando si vuole perseguitare la Chiesa la si perseguita cercando di uccidere i suoi fedeli, i rappresentanti, i capi, pensando così di sterminarla, ma sterminandola umanamente in realtà la moltiplicano così come sterminando il Cristo lo hanno semplicemente moltiplicato. L'unico modo per poter far crollare la Chiesa, se così ci fosse un modo, potrebbe essere quello di non far vivere più il Cristo nel cuore dei suoi fedeli. Ed è questo il metodo più raffinato che il demonio ha a sua disposizione e si può ottenere in vari modi, spingendo al peccato le masse dei credenti con una cultura corruttrice, l'abbiamo visto. Gli ultimi cento anni, per dire una cifra simbolica, sono stati questo. oppure infangando la Chiesa in modo tale che gli scandali fassano morire la fede nel cuore dei piccoli. E anche questo avviene. Dunque abbiamo sia la corruzione in atto, sia gli scandali in atto, proprio per tagliare tagliare quel canale di comunicazione di fede dei fedeli in Cristo. E questo può impedire, così si può dire, l'azione dello Spirito Santo, la sua moltiplicazione, la moltiplicazione del Cristo nei suoi fedeli. Ma basta che uno creda, e questo supplisce per molti, basta che uno sia fedele e riceva i carismi che Dio vuole dargli, così come li diede ai dodici apostoli, e questo può far suscitare di nuovo una Chiesa fiorente e crescente di giorno in giorno. E' difficile interpretare i tempi, però non penso che siano questi i tempi della moltiplicazione dei fedeli, quanto sia più il tempo della purificazione, perché le masse sono corrotte, siamo tutti quanti preda del fumo e della nebbia, la fede si sta spegnendo nei cuori di tutti quanti. Mi viene da pensare che è più facile arrivare prima al punto finale più basso di questa curva che si chiama purificazione dei cuori per ricreare una generazione semplice, schetta, fedele e pienamente carismatica, così come era la Chiesa primitiva. Quindi c'è un tempo di dissoluzione che purifica la Chiesa e dunque anche il mondo da tutte quelle che sono le corruzioni ormai secolari che sono diventate modo di espressione purtroppo della Chiesa, così come anche occorre una purificazione di un mondo che ha cresciuto in modo esponenziale la sua ira e dunque il suo attacco contro la Chiesa. Le due cose vanno dunque e di pari passo la purificazione del mondo è in atto, i tempi sono quelli di Dio e noi dobbiamo vivere il tempo che viviamo e dunque chi ha la fede la conservi come il tesoro più prezioso, chi ha lo spirito viva di quello e non cerchi lo spirito del mondo. Chi deve testimoniare e può testimoniare, lo faccia. Chi deve vivere con lo spirito di Dio viva con quello spirito. La storia è nelle mani di Dio. A noi viene chiesto di essere fedeli a Gesù Cristo in tutto e per tutto perché noi con lo spirito di Cristo siamo Chiesa nutrita del suo corpo e del suo sangue. Dio vi benedica. Grazie.